Gentili telespettatori, buona giornata. L'ultima supermedia AGU Trend sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Dato di rilievo il Movimento 5 Stelle scende al 10,6%. Vediamo che Fratelli d'Italia, primo partito, in crescita al 22,9%, conquista un più 0,4% rispetto all'ultima rilevazione di due settimane fa. Il PD è al 21,9% più 0,5% rispetto al 16 giugno. La Lega si mantiene stabile al 14,8%. Il Movimento 5 Stelle è in calo al 10,6%, meno 1,7% rispetto a due settimane fa. Forza Italia è al 7,7%, perde lo 0,1%. Azione e più Europa sono al 4,9%, Italia Viva di Renzi al 2,6%, Italex di Paragone al 2,6%, Verdi al 2%, Sinistra Italiana al 2%, Articolo 1 MDP al 2%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.